Buongiorno a tutti, sono Paolo Daghero, direttore dell'Engim internazionale di Torino. Sono oggi qui insieme a Mara Costanzo per presentarvi la nostra associazione. L'Engim è in particolare l'Engim internazionale che è la sezione dell'Engim che si occupa in particolare, in specifico, dei progetti di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo. Intanto che cos'è l'Engim? L'Engim è un ente di formazione professionale nato negli anni 70 per iniziativa di una congregazione religiosa, la congregazione dei Giuseppini del Murialdo, il cui santo sociale, San Leonardo Murialdo, è uno dei grandi santi sociali torinesi, la Torino di fine ottocento. Engim quindi è ente di formazione a carattere nazionale che opera in diverse regioni italiane con scuole di formazione, ma anche servizi di orientamento, servizi al lavoro. Attorno alla fine degli anni 80, inizio anni 90, Engim inizia a lavorare anche nel resto del mondo e si occupa di interventi, di cooperazione in quei Paesi cosiddetti emergenti. Lo fa all'inizio seguendo i missionari che operano in questi contesti difficili e deprivati e poi anche con iniziative a carattere più proprio. Engim internazionale è un po' come Engim in Italia, nel resto del mondo si occupa di temi simili e quindi anche in questo caso formazione, formazione tecnica, professionale, ma anche accompagnamento al lavoro. In particolare ultimamente stiamo potenziando molto tutto il settore dell'accompagnamento allo start-up di imprese, quindi il sostegno all'autoimprenditorialità, alla cosiddetta creazione di microimpresa con tutta una serie di iniziative e di supporti che vanno dal tutoraggio ad azioni di microcredito a sostegno di queste persone, spesso giovani, che vogliono aprire delle piccole realtà commerciali o artigianali. La cooperazione poi ha un ampliamento del suo bacino di impegno e quindi ci occupiamo anche di sovranità alimentare piuttosto che di sicurezza alimentare, costruzione di pozzi e tutta un'altra serie di iniziative legate anche ai diritti umani e all'emergenza. Engim internazionale che lavora autonomamente, ma anche all'interno di alcune federazioni, penso al COP, il Consorzio dell'ONG Piemontesi, ma anche alla FOCSI, che è la federazione dell'ONG di ispirazione cattolica a carattere nazionale e in altri consessi, penso all'Associazione Nazionale dell'ONG o a Concord Italia. Cos'altro dire rispetto a Engim internazionale? Vi ho parlato molto della sua presenza e impegno nei paesi con progetti interventi di cooperazione, ma Engim internazionale non è solo questo, sono anche tutta una serie di iniziative che portiamo avanti in Italia, che vanno dall'educazione allo sviluppo, un programma di sostegno a distanza che coinvolge circa 500 bambini, in particolare in Guinea-Bissau, con gli amici della Guinea-Bissau e altre cose ancora. Direi su questo magari amara di aggiungere qualcosa, c'è anche tutto il tema della mobilità internazionale e gli altri impegni in Italia. Allora dunque, buongiorno a tutti. Sì, per quanto riguarda l'attività di Engim internazionale in Italia e in specifico qui sul Piemonte, siamo molto attivi su progetti di educazione alla cittadinanza mondiale, che sono sostanzialmente attività educative che si svolgono nelle scuole primarie, secondarie, quindi medie e superiori, ma anche nella formazione professionale con ragazzi e bambini, con cui affrontiamo i temi dei diritti umani, dei diritti dei migranti, della sovranità alimentare, dei comportamenti sostenibili legati agli interventi di cooperazione che invece abbiamo nei paesi. Oltre a queste attività educative, siamo attivi in un coordinamento, che è il coordinamento non solo asilo, per lavorare con i migranti e con richiedenti asilo sul territorio piemontese, sia in ambito formativo che in ambito di progetti più ampi di accoglienza. Abbiamo poi tutto un settore, che è quello che mi riguarda forse più nello specifico, di progetti di mobilità internazionale, di volontariato, che permettono a ragazzi piemontesi e non solo, di svolgere delle esperienze molto, molto importanti di durata medio-lunga nei paesi in via di sviluppo, il servizio civile italiano all'estero, il progetto UNICO, svolto in collaborazione con l'Università di Torino per svolgere tesi di laurea all'estero e varie altre interventi di mobilità che possono essere accessibili tramite il nostro sito, che vi invitiamo a visitare, che potete trovare all'indirizzo internazionale.engine.it oppure il blog volontari, che trovate all'indirizzo volontari.engine.it. Quindi vi invitiamo a dare un'occhiata ai nostri progetti e a contattarci per maggiori informazioni. 8 febbraio 1852. Giuseppe Bertolino, datore di lavoro, Giuseppe Odasso, il ragazzo che andava a bottega. Firmano il primo contratto di apprendistato, lo fanno a Valdocco davanti alla figura di Don Giovanni Bosco. Da lì in avanti inizia una storia fatta di giovani, adulti, professionisti, formazione professionale guidata dai salesiani, i figli di Giovanni Bosco. Ho frequentato l'istituto Cnosfap Torino Agnelli per tre anni, facendo attività nei laboratori, lezioni teoriche, utilizzando attrezzatura meccanica e facendo corsi di formazione con varie aziende nel mondo dell'automotive, le quali ci hanno dato la possibilità di frequentare uno stage di sei mesi. Sono riuscito ad accedere a un contratto di tre anni, apprendistato, il quale mi ha dato l'opportunità di mettermi in mostra con l'azienda per la quale attualmente lavoro e che spero mi darà l'opportunità dopo i tre anni di continuare insieme a loro. Le armi al momento non le ho tutte, ma cercherò di arrivare fino in fondo per dare il meglio di me. 13 sedi ad oggi presenti in Piemonte, più di 1100 corsi, più di 6.000 tra giovani adulti coinvolti. Un ragazzo deve sicuramente avere una capacità tecnica. Noi siamo convinti che la formazione morale del ragazzo sia altrettanto importante. Questa è la ragione per cui più di metà dei nostri ragazzi hanno frequentato le scuole professionali o l'istituto tecnico dei salesiani di Bra. Hanno una formazione che li predispone molto bene ad andare d'accordo con il principio che è quello che ognuno deve fare onestamente la propria parte perché l'azienda possa funzionare bene. L'imprenditore deve fornire gli strumenti, ma gli strumenti danno risultati buoni o meno buoni a secondo della qualità del personale. Quindi la formazione del personale è in fin dei conti la cosa principale, la cosa più importante nell'azienda. Gabriele Miglietta, direttore del CNOS FAP di Savigliano Saluzzo. Perché questo percorso? Qual è la ricchezza? La ricchezza di questo percorso è proprio quella di poter offrire a giovani, a imprese, agli adulti dei percorsi di formazione e di riqualificazione, dei percorsi che consentono un inserimento, un reinserimento nel mondo del lavoro. Ho superato la crisi un giorno entrando a Crosfa Paviliano-Biellese, parlando con il direttore. Il mio interno lavorativo ho iniziato a 17 anni come magazziniere. Non avevo più voglia di andare a scuola, come tanti. Ho trovato lavoro, poi sono andato come guardia giurata per un bel periodo. Poi sono entrato alla malattia e purtroppo ho perso parecchio. Ora lavoro, proprio grazie a questo corso fatto così inaspettatamente a Crosfa Paviliano-Biellese. Un corso di aiutante di segreteria, in quanto la mia nuova situazione fisica non mi permette più di fare determinati lavori. È felice? Molto. Felice, ma un po' comunque preoccupato, perché la situazione comunque non è del tutto sistemata. Comunque sono già rientrato nel mondo del lavoro. L'Associazione Giglio nasce nel 2002 dalla volontà di rendersi utili nel sociale di un gruppo di amici. La nostra attenzione si è da subito rivolta al sostegno dei genitori dei bambini ricoverati all'ospedale infantile Regina Margherita che si trovassero in situazioni di disagio economico. Per 14 anni l'Associazione ha messo a disposizione delle famiglie sei alloggi a titolo completamente gratuito, riuscendo ad ospitare più di 130 famiglie provenienti da tutto il mondo. Questo risultato è stato possibile grazie alle raccolte fondi in occasione dei vari eventi di beneficenza organizzati dai nostri volontari, in particolare grazie al lavoro dell'Associazione in palcoscenico che dal 2007 si affianca all'Agiglio nella realizzazione di spettacoli teatrali. L'ultimo, i due gemelli veneziani, è attualmente in replica nei teatri di Torino e provincia. Negli ultimi due anni la lunga lista di genitori in attesa ha spinto l'Agiglio a voler fare di più. È nato così il progetto di un condominio solidale per ospitare ancora più famiglie contemporaneamente. È un progetto ambizioso che ha bisogno di contributi pubblici e privati, sponsor e fondazioni e che necessita del sostegno di tutti. Ognuno di voi può aiutarci e può visitare il nostro sito per qualsiasi informazione, per conoscere le nostre attività e per seguire mattone su mattone la costruzione del condominio Giglio, di cui ora vi parlerà la responsabile Progetti, Silvia Bonatto, che ringrazio. Oggi Giglio Onlus si trova di fronte ad una nuova grande sfida, dalle case Giglio a casa Giglio. Il nuovo condominio sarà in grado di ospitare fino a 11 famiglie contemporaneamente con degli obiettivi precisi. Essere di sostegno concreto alle famiglie con disagio economico e figli ricoverati all'ospedale infantile Regina Margherita, affiancare l'azione dell'ospedale eccellenza pediatrica già riconosciuta a livello europeo, costruendo le basi per collaborazioni nazionali ed internazionali, e aiutare la città di Torino nelle situazioni di emergenza sociale permettendo un maggior grado di dignità nella cura. Il condominio sarà situato in via Cappelverde 2 a Torino, angolo via 20 Settembre nella zona del quadrilatero romano. Sarà suddiviso appunto in 11 piccoli appartamenti in cui le famiglie potranno vivere la propria privacy, ma avrà anche a disposizione dei locali comuni come la cucina, la sala polivalente e la lavanderia, in cui sostanzialmente le persone potranno condividere le proprie esperienze ed aiutarsi a vicenda. Perché la Casa Giglio? Perché accogliere bene è già curare, perché stare insieme è già curare e perché fare di più vuol dire curare di più. www.giglio-honlus.it A nome del Lettorium Rosicrucianum, Associazione di Promozione Sociale e la Scuola Spirituale della Rosa Croce d'Oro, vi auguriamo un buon ascolto. Noi siamo un'associazione di promozione sociale e ci occupiamo per il sociale di tutto ciò che riguarda la solidarietà umana, l'aiuto a chiunque, è per lavorare al risolvere le problematiche esistenziali attraverso una conoscenza profonda di sé, divulgando quel tipo di conoscenza che aiuti la persona a migliorare se stesso e il suo rapporto col mondo e con gli altri. Questo ci occupiamo nel sociale e questo che portiamo avanti in ogni Stato e in ogni nazione a livello mondiale. In Italia siamo presenti anche qui in Piemonte. Sì, è un'associazione di promozione sociale registrata legalmente in questi termini. Di fatto siamo una scuola spirituale che propone un percorso di crescita della consapevolezza dei motivi dell'esistenza. Quindi ci rivolgiamo a tutti gli ambienti che possiamo arrivare a contattare senza fare nessuna distinzione di sorta. Siamo apartitici, apolitici, non siamo sponsorizzati da nessun ente, da nessuna forza, siamo totalmente autogestiti. Ci rivolgiamo ad ambienti culturali e anche non. Tentiamo di portare avanti una diffusione di quello che è l'insegnamento universale che si è sempre proposto in tutti i tempi, che hanno sempre divulgato le grandi tradizioni della storia dell'umanità per, attraverso questo processo, portare il nostro contributo affinché la coscienza collettiva si possa accrescere e si possa arrivare a comprendere qual è il fine vero e ultimo dell'esistenza umana. Quindi abbiamo un'associazione che si occupa di questo. Lo facciamo in due modi. Lo facciamo internamente, attraverso delle attività riservate ai partecipanti ai nostri lavori e lo facciamo anche attraverso delle presenze pubbliche, delle uscite pubbliche dove organizziamo conferenze, dibattiti, seminari, eccetera. Quello che è importante dire, ci presentiamo come scuola spirituale ma non come religione. Non siamo né una vecchia né una nuova religione. Non siamo semplicemente una religione e neppure siamo un ente che propone l'insegnamento di qualche maestro o di qualche profeta particolare perché riteniamo che l'insegnamento universale sia un uscibile a disposizione dell'intera umanità e che quindi ogni essere umano abbia la possibilità di accedervi direttamente attraverso un processo individuale di autoconsapevolezza, di presa di consapevolezza, unito alle forze di tutti gli altri esseri umani che vogliono partecipare allo stesso progetto. Non proponiamo neppure un discorso filosofico perché riteniamo che in ambito filosofico sia già stato detto tutto, quello che sia in Oriente che in Occidente, sia nei tempi antichi che nei tempi moderni e noi non abbiamo intenzione di aggiungere alcun nuovo concetto filosofico. Non è questa la nostra intenzione. La nostra intenzione è proprio quella di presentare una possibilità all'essere umano per arrivare a capire il vero motivo per cui lui è presente in questo pianeta e in questo momento. Questo essere presente in questo pianeta e in questo momento è la rappresentazione assoluta del dare un senso alla propria vita. Un senso alla propria vita è un'entrata profonda nell'incontro con se stessi, con se stessi, con il mondo e con la conoscenza di quella parte spirituale di sé. Questo lo facciamo attraverso ciò che è la nostra attività interna ed esterna attraverso gli eventi e lo facciamo nella piena libertà di tutti perché essendo un'associazione di promozione sociale è possibile iscriversi, partecipare all'attività e allo stesso tempo allontanarsi dalla scuola spirituale. Lo facciamo nel territorio piemottese con tre sedi, una sede regionale a Moncaglieri, una sede provinciale di Cuneo a Valgrana e una sede a Biella a Curino. Quindi ci potete trovare dappertutto. Grazie.